Oh 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 Porta per calza di aspetto, la scossa dei libri di scuola, anch'io prenderò la pistola, sei giorni e sei notti di gloria. Il работу es la nostra victoria, a senatori no sono animati, il misurito di aspetto, la scossa dei ragazzi è la casa di rosa, e su mente è grande al numero, unicordio è di massa passante, solo la cosa del Nino, una grazia lo tira a mia mano. E mi dono diciamo che stasera a dite che palla patata. E' un'altra bassa, ma' bella, ho, 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 ho. Mi trattami tutti consigli, non stasciolare tutti, allora sei la delle frime, che noi si tratteremo dai monti. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh.